No, porca miseria, ho sbagliato, non dovevo formatare questa scheda SD A chi non è mai successo di formatare per errore o un hard disk, o una scheda SD, oppure un hard disk esterno Fortunatamente oggi esistono dei sistemi o dei software disponibili online che ci consentono di recuperare i dati persi Oggi ho l'opportunità di presentarvi il software 4Dig per recuperati sia Windows che anche per Mac Supporta entrambi i sistemi, questa è la pagina di gestione del programma Possiamo effettuare il download gratuito per Windows 11, 10, 8.1, 8 e 7 Vi dicevo c'è anche la versione per Mac Attualmente è prevista un'offerta sconto dedicata del 40% con il codice Xmas40IT È la versione di licenza di un mese a 45 ore e 99 Ovviamente include il recupero di oltre mille tipi di dati Adesso poi entriamo nel dettaglio di quali sono le tipologie di dati che possono essere recuperati e in quali modalità Un anno di licenza 69 euro E a vita licenza da 99 e 99 Vi dicevo qui nella pagina di presentazione trovate tutte le tipologie di recupero file che possono essere recuperati Avete eliminato e sbuotato il cestino Possono essere recuperati i dati Recupero da unità formattate come potrebbe essere un hard disk da un pc Oppure recupero di una partizione persa O recupero anche da un dispositivo esterno Come può essere un hard disk esterno allo stato solido O recupero anche di un pc crashato Anche recupero di file RAW Le tipologie di file che possono essere recuperate sono sia foto, video che audio O documenti tipo Office, Excel, Word, HTML, email, archivo o altre tipologie di file Adesso vediamo insieme come fare a recuperare i dati Facciamo la simulazione come vedete a video di quello che sono un'azione di cancellazione per errore di dati All'interno di questa cartella del disco rimuovibile G che non è altro che la scheda SD collegata al pc Abbiamo tre tipologie di file Ho messo dei file PDF e un file JPEG Quindi un'immagine Andiamo per esempio a formattare questa scheda SD in maniera errata Ipotizziamo Ovviamente se sappiamo che in ultimo che andiamo a formattare perdiamo completamente i dati Quindi rientriamo all'interno del nostro disco rimuovibile G e non abbiamo più nessun dato Quindi abbiamo perso i dati delle nostre fotografie, immagini, video e altro file che siano Come fare quindi per recuperare? Dopo aver installato il programma Alla dashboard abbiamo tutti i dispositivi che vengono riconosciuti installati Da cui possiamo andare a effettuare recupero dati Riconosce sia l'hard disk interno Anche la partizione Queste sono le unità esterne Questo è l'hard disk esterno Samsung E questa è la E viene definita chiavetta Non è altro che una scheda SD collegata al lettore di schede Questa è quella su cui noi vogliamo effettuare la scansione Verranno scansate tutte le tipologie di file E parte il processo di scansione Che ovviamente varierà in termini di durata A seconda di quante è la grandezza della capacità della scheda Io adesso ho inserito una scheda piccola proprio per velocizzare il processo Ok, completata la scansione Come vedete sono stati recuperati 49 file 223,46 MB Possiamo andare a cliccare sul recupero Andiamo a conferma Selezioniamo i file recuperati che vogliamo scegliere di selezionare Andiamo il percorso che ho scelto nella partizione dove sono stati persi Quindi andiamo a selezionare la cavetta USB-G E quindi andiamo il recupero In questa fase possiamo o recuperare con la contemporanea riparazione Quello dei file sin danneggiati oppure possiamo solo recuperare Io scelgo attualmente solo di recuperare e quindi parte il processo di recupero dalla scheda SD Che piegherà qualche secondo per il completamento Ok, completato il processo Recupero completato Visualizziamo i file recuperati Andiamo sulla cartella che si è creata Come vi dicevo sono stati recuperati anche i vecchi file che erano in presenza cancellati In questa scheda SD sono diversi file audio Andiamo anche nell'altra cartella che avevo creato io Qui c'è il file che avevo salvato e cancellato nell'esempio di formattazione accidentale Quindi operazione completata in maniera velocissima Per riepilogare i passaggi quali sono Andiamo ad installare il nostro applicativo Nella dashboard abbiamo possibilità di utilizzare la guida rapida che su ogni singolo passaggio ci dà le istruzioni su come procedere Selezioniamo semplicemente la chiavetta origine da cui vogliamo effettuare il recupero dei dati Procediamo con la scansione del contenuto della chiavetta stessa o dell'hard disk Ed quindi recuperiamo i dati Operazione semplicissima, il gioco è fatto Vi lascio tutti i link in descrizione per poter scaricare il file del software Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un like Se non l'hai ancora fatto ti invito a iscritti al canale Ed attiva le notifiche Ciao a tutti e al prossimo video da MarcelloMotta.tech Grazie a tutti